Allora, ho ascoltato, in netto ritardo, che l'ho ritrovato qui su YouTube, You Are Not Alone cover di Michael Jackson, ovviamente, eseguita da San Giovanni e Denula ad Amici, uno degli speciali. Una cover riadattata, con nuove barre, ovviamente, e io non so bene che idea mi sono fatto, perché la canzone è bellissima. L'hanno fatta benissimo. Loro sono due che hanno dei timbri pazzeschi, cioè il livello è altissimo. Le barre sono tutte reali, alla pace, un grido di pace. Cioè, siamo tutti uguali, no? Non razzismo, contro l'omofobia, l'omotransfobia. Un uomo deve essere libero di mettersi la gonna, non conta che sei bianco o che sei nero, bianco, cioè, appunto, magro, grasso. Cioè, il messaggio è bellissimo, ed è ben tramandato, ed è ben eseguito. Dov'è il mio dubbio? Che cos'è? Volevo, cioè, esporre questa questione, approfittare di questo brano per dire, cioè, ormai è talmente sputtanato, diciamo, come argomento, questo qui della sensibilizzazione, che io, mentre ascoltavo una bellissima canzone con delle bellissime parole, io immagino anche tante persone scettiche come me, non lì, ma è un po' una paraculata, ti viene sempre da dire. In questo caso mi sono risposto che non lo è. Non lo è perché i ragazzi l'hanno fatta bene. Cioè, la differenza tra la paraculata e il brano eseguito bene, e il messaggio che arriva, sta poi nell'esecuzione, nel modo in cui la canti, nel modo in cui arriva. È chiaro che un ragazzo di 17 anni che ti fa delle barre in cui parla così di pace, ha credibilità fino a un certo punto, perché comunque siamo tutti bravi a dire pace, siamo tutti bravi a fare gli spot progresso, e si dice, ah, tu, grande, sei molto coraggioso. Eh sì, però mi anche conviene. Cioè, se io per dirti facessi degli spot sulla pace, contro l'omofobia, a me mi converrebbe. Sarebbero tutte il dire, grande, che ti sei schierato, fai paura, ok, capite cosa voglio dire, capite di cosa voglio parlare. E quindi, di conseguenza, quando si fanno queste cose, io so sempre un po', cioè, non è che a priori ti dico, grande, bravo, perché ti sei schierato, ok, in tutt'altro. Forse qualche anno fa era diverso, perché fino a qualche anno fa, schierarsi contro certe cose, era veramente da outsider. Oggi salgono un po' tutti sul carro, diciamo, no? Sul carro dei pacifisti. E quindi, di conseguenza, è facile. Però, in questa occasione, devo dire, pur essendo Enula una che si racconta un sacco di alibi, si racconta un sacco di puttanate, e vorrebbe essere la paladina in sto cazzo, qual non è. Però ha un timbro meraviglioso, e io vi invito a recuperare il podcast Enula, Cosa mi manchi a fare, in cui ho trattato proprio perfettamente le motivazioni per cui Enula è stata fatta fuori. In questo caso, devo dire che la coppia, Enula-San Giovanni, ha funzionato di brutto, la canzone è stata rifatta in maniera impeccabile, una cover meravigliosa, che ho ascoltato, riascoltato, e deciso di commentare a distanza di tempo, appunto perché mi ha colpito molto. Mi scusate anche il velo polemico, se ho voluto comunque, però io, come sapete, per me monologato podcast vuol dire partire dal brano, fare una breve recezione del brano, e poi cogliere l'aspetto sociale. Quindi l'aspetto di questo episodio che voglio trattare è proprio questo. Cioè, parlare della pace è sempre una cosa che, diciamo, rende onore alle persone, ecco, però dipende da come lo si fa. Tutto qua. Ricordiamoci che John Lennon, per fare un brano sulla pace, a suo modo, ci ha rimesso la vita, praticamente. Ma perché? Perché lui non è che era lì a dire ah, pace, pace, dobbiamo essere amici e basta. Il testo di Majin andrebbe studiato. Va, viene studiato, insomma. Ed è un testo che per i tempi era molto provocatorio, appunto. Immagina che non ci sia il paradiso. Stai parlando di pace e non vuoi il paradiso. E, insomma, è rivoluzione. Quindi, di conseguenza, questo brano è bello, il testo è bello, le bare sono belle, ma sono un po' populiste. Nulla di nuovo. Cioè, per me, l'argomento pace va affrontato, l'argomento omofobia, l'argomento no razzismo, va affrontato in una modalità 2.0. Cioè, no razzismo, sì, ma approfondiamo e parliamone. Perché non basta dire due persone omosessuali sono libere di amarsi, i bianchi sono uguali alle persone di colore. Non basta dire questo. Bisogna scendere un po' più a fondo. Ovviamente non è che una canzone debba fare questo. Non è un dibattito politico e sociale. La canzone è uscita bene, ha spaccato e tutto. Però ci tenevo un attimo a dire che se si trattano certe tematiche, oggi, trattarle così bene, 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 ma non benissimo. Se non fosse che la canzone è fatta veramente bene ed è bella di per sé la canzone originale, chissà se avrei detto le stesse cose. Poi sti due non avessero questo timbro meraviglioso che hanno, grandi talenti dell'interpretazione. E questo è innegabile. Comunque, va bene così. Tratteremo queste tematiche in futuro, magari come vanno trattate.